Sabato scorso, attraverso un messaggio su WhatsApp, orgogliosamente aveva invitato gli amici e i giornalisti ad un convegno da svolgersi il prossimo 5 dicembre al Cinema Hollywood. Giuseppe Alavviso aveva scelto un nome che era tutto un programma, un volo dove non si vola, l'Egitto. Aveva preparato video e foto della sua ultima impresa, quella conclusesi lo scorso 31 ottobre. A bordo del suo Storm 300, per oltre un mese e mezzo, aveva viaggiato nel lungo e nel largo l'Europa e parte dell'Africa nel tentativo di raggiungere un nuovo record, 13.000 km da percorrere in 80 ore di volo in 13 paesi. E quando atterrò a Gera, accolto dall'assessore Francesco Sardinitro, Alavviso disse la sua sull'Egitto. In Egitto è successa una cosa assurda che non esiste in nessuna parte del mondo perché sono atterrato, l'indomani sono decollato per Cipro e ho forato un pneumatico e ho sistemato perfettamente la ruota. L'indomani mi hanno bloccato perché secondo per la loro mente, la loro ragionamento, deve venire un tecnico dell'avversione italiana perché l'aereo è italiano per controllare il ruotino. L'ho detto scusi, un gommista non può essere un ingegnere, dice deve essere così o di qua non decolla. Giuseppe Alavviso dedicò l'ultima impresa alle associazioni Admo e Adas portando nei 13 paesi tappa del suo viaggio il messaggio della donazione del midollo osseo e del sangue. Nel luglio del 2013 Alavviso volò da Gela a Caponordi in Norvegia percorrendo 9.300 km in 8 giorni e 54 ore di volo e nell'agosto scorso da Gela in Negroellandia 12.000 km e 75 ore di volo. Una vita spericolata quella dell'Abbiso. Anni fa rimase vittima di un incidente in aereo nei pressi di Sabauria e rimase in stato comatoso per circa un mese. Nel 2010 un altro schianto nelle campagne di Sommatino. In quell'occasione riportò lievi traumi.